reality festival con tg events con radio number one e con un ospite è venuta a trovare gli amici a sanremo chixi ciao 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 a tutti allora come è stato questo impatto con la città di sanremo in questo periodo di festival beh pazzesca in realtà mi piace un sacco il mare no quindi le località marittime sono una figata ma sanremo e soprattutto in questo periodo è doppiamente una figata e tu invece in questo periodo che stai facendo sei tornata a scuola stai studiando come state il rientro beh io faccio terza superiore quindi sto riprendendo tutto scuola studio moda quindi è abbastanza dura riprendere questi due mesi e mezzo in tre settimane ma si fa perché dove c'è la musica c'è anche tanto impegno qual è la qual è la materia che che insomma proprio quando sei lì che devi affrontare quell'ora diventa una fatica è la matematica ma si si sa che gli artisti la matematica sono sempre un po così e si è dura e come è stato invece il dopo x factor no perché tu hai vissuto questo periodo la televisione le cose le prove la musica e il ritorno alla vita di tutti i giorni beh è un mondo in cui l'adrenalina è sempre a mille perché non si dorme mai diciamo così è un po come new york non dorme mai e quindi ritornare alla normalità che poi normalità non è molto perché comunque la mia vita è molto più attiva è particolare però si sta bene è un po come prendersi un tè dopo una maratona ci stava quando vedi invece gli artisti del palco del festival un pensierino ti viene per il futuro secondo me non dobbiamo escludere niente nel senso che io dico questo quando sarò pronta vorrò provare a fare sanremo anche perché poi tra l'altro stavo pensando in questi giorni che uno dei primi degli artisti è che con l'orario cui mettono i giovani bisogna per forza essere maggiorenni perché sennò dopo mezzanotte non si può andare in televisione esatto infatti il problema di x factor è sempre stato quello che eravamo sempre lì per scoccare no e quindi la mezzanotte è un grande problema per i minorenni quindi aspettiamo di non dare troppo fastidio anche tanto ecco cosa come cosa hai trovato tra i giovani del festival di quest'anno e visto qualcosa che ti è piaciuto allora devo dire che mi sono piaciute seguivo tanto Andrea perché mi piace molto il suo genere un po session dubstep vevo è un genere che ascolto molto e poi anche il cile mi è piaciuto un sacco e anche il vincitore devo dire che erano le tre persone che ho seguito seguivo prima in realtà e ho seguito anche dopo seguirò dopo e cosa succede invece adesso a Cixi da qua in avanti quali sono gli impegni futuri dal punto di vista della musica al di là della matematica e della moda beh da qua in avanti si studia primo ma si studia soprattutto per creare un cd per creare uno spettacolo per portare qualcosa in giro di Cixi di Cixizzato e quindi io e il mio chitarrista stiamo cercando di fare un po di mash up che sono quelle canzoni che diventano altre canzoni che poi diventano altre canzoni i barba scherzi come direi io e niente si lavora tanto perché perché ci sta ci sta tutto e perché bisogna se non lo faccio adesso io dico sempre questo che io ho l'età abbiamo un'età noi ragazzi dove è giusto spaccare il mondo quindi dobbiamo spaccarlo il più possibile allora spacchiamo tutto con Cixi grazie per essere stata con noi qui a reality festival con tg events con radio number one in bocca al lupo a voi ciao ragazzi ciao